Recitativi da remoto è il brano con cui partecipo al progetto Isole Distanti, è un brano per violoncello e percussione di sintesi, inizialmente avevo pensato in una marimba, però come così rapide e tumultuose si sono succedute le varie tappe di questo progetto, così ho deciso anche di cambiare in corso d'opera la destinazione strumentale. Ma mi è capitato di dover concepire, scrivere un brano per due strumenti, due attori che non potessero in alcun modo dialogare di influenzarsi. Ho cercato di ovviare a questo inedito problema scrivendo una traccia per entrambi molto serrata in cui vi fosse per una certa libertà di intenti improntati principalmente a una certa vemenza. Grazie a tutti.